Dopo due passi falsi lo Spezia puntava a rilanciarsi e con questo risultato ci è riuscito. Ottima prestazione, ottima reazione. Ho sempre avuto fiducia in questi ragazzi che sono vivi. Hanno voglia di essere protagonisti, chiaramente rispettando anche gli avversari perché esistono anche gli avversari in campo. Infatti oggi il Benevento ha perso Novara, quindi bisogna capire che ci sono anche gli altri che hanno buona individualità. Noi oggi abbiamo fatto una gran partita, abbiamo fatto un quarto d'ora importante, squadra che giocava un tocco, due tocchi, sei calci d'angoli presi. Poi è venuto fuori l'Ascoli, nella seconda parte del primo tempo siamo fuori l'Ascoli, mentre nel secondo tempo abbiamo fatto un altro secondo tempo straordinario dove abbiamo creato tante occasioni. Penso che sia un risultato meritato, soprattutto da parte del gruppo, una risposta importante a qualche negatività che sicuramente non fa bene a nessuno. Però noi guardiamo avanti senza curarci degli altri perché noi dobbiamo guardare solo noi stessi e cercare di fare il meglio possibile. Parte il rigore dopo un minuto, casuale, nato da una situazione chiaramente di difficile lettura perché è scivolato il mio giocatore. Per il resto la partita l'abbiamo fatta noi, abbiamo avuto quattro palle gol nitide, tre volte l'abbiamo ciccata davanti al portiere. Poi loro hanno fisicità, hanno qualità, ci hanno punito in un momento in cui la partita sembrava destinata allo 0-0 nel primo tempo. E chiaramente poi rimane un po' rammarico perché tu fai la partita, giochi meglio, secondo me, dello Spezia, crei tanto e ti ritrovi sotto. Poi diventa tutto più difficile anche per l'esperienza che hanno. In secondo tempo sicuramente abbiamo fatto meno bene, abbiamo sofferto di più e magari lo Spezia ha avuto tante occasioni. L'importante è che la palla è entrata e che abbiamo vinto. Come spesso si dice, il girone di ritorno è un altro campionato dove si gioca veramente per i punti. Siamo contenti che oggi abbiamo portato i tre punti a casa e continuiamo così. Sì, Djokovic è un giocatore molto solido a centrocampo dove ha tanta fisicità e invece Diego davanti veramente si sposta all'equilibrio, prende 100.000 falli e ci fa sempre la differenza, questa è la verità. Eravamo già una squadra forte con loro, ci siamo completati, non dobbiamo sbagliare gli atteggiamenti, far sempre la prestazione. In Novara abbiamo fatto un passo falso, quindi oggi era importantissimo ripartire.